Musica Bentrovati al meteo, perturbazione in transito sull'Italia al nord est, tempo ancora incerto. Il dettaglio di sabato 24 ottobre, sul Veneto sarà spiccatamente instabile e perturbato, al mattino cielo molto nuvoloso con piogge piuttosto frequenti. Nelle ore pomeridiane la situazione andrà lentamente migliorando con qualche pausa maggiormente asciutta, entro sera fenomeni in esaurimento un po' dappertutto. Temperature stazionarie minime fino a 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con precipitazioni diffuse durante la giornata, ma anche in questo caso in serata le piogge saranno in cessazione. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime sui 15-19 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui rovesci dappertutto, dal pomeriggio però graduale miglioramento con piogge via via più rare. Temperature minime sui 6-9 gradi, massime sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Grazie. Grazie a tutti.